in 41 anni e mezzo anzi di più pur frequentando questi posti da tanti decenni non c'ero mai stato il lago di monterosi siamo proprio a monterosi qua c'è il belvedere comunale c'è una piccola spiaggia faccio vedere una panoramica oggi è sabato 7 settembre del 2013 sono appena stato lì c'è un puntile vedete si vede forse in penombra e sono appena stato a una bellissima festa di un mio collega di lavoro qui nei pressi di monterosi e visitiamo anche il lago di monterosi tocchiamolo eccolo qua con la mano col dito eccolo qua perché è bello visitare i posti e toccarli lago di monterosi 7 settembre del 2013 noi ci vediamo su ematube.it e vi lascio a questo splendido tramonto con i suoi colori odori e sapori bellezze è veramente bello lago di monterosi grazie grazie grazie